Con determina dirigenziale del 14 aprile 2022 è stato approvato il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni stagionali di agenti di polizia locale a Castellabate. Trattasi di assunzioni a tempo determinato nello specifico di part-time verticale per un totale di 18 ore settimanali. Mediante tale procedura selettiva verrà formata una graduatoria che potrà subire scorrimenti anche negli anni successivi. I principi su cui si basa la procedura selettiva sono adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di genere, economicità e celerità. Il sindaco Marco Rizzo ha dichiarato questa selezione ci consentirà di avere più agenti impegnati sul territorio per garantire la sicurezza, affronteggiare le esigenze ordinarie e straordinarie dettate dal flusso eccezionale di turisti nella stagione estiva. La creazione di posti di lavoro è per noi fondamentale e cruciale nel nostro obiettivo a lungo termine di incentivare i giovani a rimanere qui a Castellabate. Il nostro obiettivo primario è quello di creare nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani, afferma l'assessore delegato al personale Luigi Maurano per permettergli di guardare al futuro con ottimismo e speranza. È su di loro che vogliamo puntare per apportare migliorie all'intero territorio. Parte con questo concorso una nuova politica assunzionale che toccherà tanti settori amministrativi del comune di Castellabate.